Benvenuti all'oroscopo di oggi. Oggi esploreremo le stelle e i pianeti per scoprire cosa riservano per voi. Siate pronti a scoprire le previsioni dell'oroscopo per il vostro segno zodiacale e a farvi ispirare dalle influenze celesti. Preparatevi per un viaggio nell'universo dei segni zodiacali e delle stelle, mentre vi sveliamo ciò che il destino ha in serbo per voi. Segno aliete. Inizia la tua giornata con una profonda respirazione per affrontare le sfide con vigore, evitando di sentirsi esausti prima ancora che il sole tramonti. La comunicazione aperta con il tuo partner sarà fondamentale per mantenere l'armonia nelle relazioni. Per i single, potrebbe essere il momento perfetto per scoprire una nuova passione in una persona con caratteristiche diverse dalle tue. Nonostante le tensioni possano sorgere, cerca di cambiare prospettiva e considera che anche le situazioni difficili potrebbero risolversi positivamente. Sul fronte lavorativo, concentrati sulla risoluzione dei problemi anziché sulle critiche, la positività può portare a risultati favorevoli. Stai attraversando un periodo impegnativo in cui le tue idee potrebbero non essere pienamente accettate o condivise dalle persone intorno a te. È importante ritrovare serenità e prendersi cura della tua salute fisica. La giornata inizia con qualche incertezza e dovresti prestare attenzione anche alle questioni finanziarie. Alcuni problemi amorosi potrebbero essere più facili da affrontare a metà febbraio. Segno toro. Sabato porta una leggera positività, con ritmi rilassati sia nel lavoro che nei sentimenti. Le coppie potranno godersi una serata piacevole insieme, mentre i single potrebbero trascorrere momenti intensi con gli amici più cari, rafforzando legami importanti. Sul lavoro, il successo di un progetto dipenderà dalla collaborazione con i colleghi, sottolinea l'importanza del lavoro di squadra per ottenere risultati significativi. La giornata di oggi inizia con la luna in posizione opposta, il che potrebbe portare fastidi e ansie, specialmente se hai recentemente notato dei cambiamenti nel tuo ruolo o se eventi esterni ti stanno spingendo a diversificare i tuoi interessi per il futuro. Potresti non sentirti particolarmente incline a comprendere o aspettare il tuo partner. Tuttavia, se ci sono conflitti, sarà meglio affrontarli più avanti. Verso la fine di febbraio, sarà necessario fare delle scelte decisive e chiarire situazioni che non sono più sostenibili. Segno gemelli. Una giornata abbastanza positiva in arrivo. Le coppie potrebbero sperimentare momenti di passione e apatia, ma non c'è motivo di preoccuparsi, ogni relazione ha alti e bassi normali. I single sono invitati a iniziare la giornata con calma e a affrontare le sfide con un mix di emozioni, sfruttando il sorriso come arma per affrontare il lavoro con positività. Il fine settimana inizia bene, ma è meglio evitare lo stress e le discussioni domenica. Potresti essere portato a perdere la pazienza, soprattutto se hai già avuto dei contrasti con il tuo partner all'inizio di gennaio. È probabile che questo fine settimana ci sia bisogno di chiarire alcuni punti. Presta attenzione se ci sono questioni finanziarie o di proprietà familiare da risolvere. Tieni presente che la prossima settimana Mercurio inizia un transito interessante e la seconda metà di febbraio sarà propizia per incontri e opportunità lavorative. È il momento di cercare nuovi stimoli e, anche se comporta dei rischi, potrebbe essere necessario lasciare la zona di comfort per crescere. Segno Cancro Un sabato pieno di sentimenti positivi, romanticismo e sorprese in arrivo. Le coppie avranno l'opportunità di trascorrere momenti felici insieme, mentre i single sono incoraggiati a osare e seguire il loro istinto verso chi gli interessa, senza paura del rifiuto. Sul lavoro, fidati della tua intuizione per valutare opportunità vantaggiose proposte dai colleghi e agisci tempestivamente. Le influenze planetarie che hanno reso il mese di gennaio piuttosto pesante stanno gradualmente diminuendo, consentendo un recupero. Già oggi e domani la Luna è favorevole, dando spazio a possibili ripensamenti, specialmente per quanto riguarda relazioni passate. Tuttavia, è consigliabile procedere con cautela in questo periodo. Per i liberi professionisti, potrebbe esserci un rinnovo contrattuale in arrivo tra febbraio e marzo, quindi è importante prepararsi adeguatamente. Segno leone. Le sfide possono essere stimolanti, ma non dovremmo vivere ogni giorno come una competizione senza fine. Per questo motivo, è importante affrontare le prossime 48 ore con tranquillità. Se c'è qualche fastidio da superare, è meglio prendersi del tempo per se stessi, magari concedendosi un appuntamento intrigante o romantico soprattutto durante la domenica. Il nostro corpo ha affrontato molte prove ultimamente, quindi non sarebbe male concedersi un po' di relax. Potrete godere della crescita dei vostri sentimenti di coppia, il tutto accompagnato da intense emozioni. Sarete soddisfatti del progresso della vostra relazione, il che vi ispirerà a pianificare una serata romantica da trascorrere insieme in tranquillità. Per i single, amore e amicizia porteranno nuove esperienze, mentre la condivisione di idee e passioni creerà un'atmosfera di complicità. Potrebbe esserci un incontro significativo, una seduzione fuori dagli schemi abituali, magari durante un viaggio, con nuove opportunità all'orizzonte. Vi attendono opportunità lavorative importanti che, con la giusta preparazione, saranno vostre. Siete pronti ad accogliere nuove idee, quindi cogliete al volo l'opportunità e lasciatevi guidare. Segno Vergine Sia piccoli che grandi successi potrebbero arrivare entro la metà del prossimo mese, specialmente per coloro che hanno avuto dei momenti difficili e ora stanno cercando di recuperare. Non sempre le persone intorno a noi sono affidabili, te potrei addirittura menzionare delle defezioni anche all'interno della famiglia, ma fortunatamente la logica e la razionalità possono aiutarci a superare i disagi. Tutto ciò che abbiamo pianificato e organizzato negli ultimi mesi potrebbe portare a successi nelle prossime settimane. Anche se a volte ci sentiamo un po' ansiosi, è importante ricordare che amiamo fare le cose alla perfezione. Saturno opposto potrebbe averci messo alla prova, ma ci ha anche aiutato a capire chi ci stava ostacolando, rendendo più facile allontanarli. Molti di noi, a causa di recenti sfide fisiche e morali, si sentono stanchi e hanno bisogno di ricaricare le energie. Gli ultimi tempi sembravano una corsa a ostacoli, ogni volta che un progetto sembrava essere definito, dovevamo ricominciare da capo. Sul fronte lavorativo, affronterete sfide impegnative con determinazione, dimostrando passione per ciò che fate e impressionando chi conta con le vostre abilità e creatività. Segno bilancia. La giornata di sabato si prospetta senza intoppi, con la solita routine e un rating di 4 stelle. Anche se manca l'entusiasmo, l'atmosfera dovrebbe essere abbastanza serena. Anche nelle attività quotidiane più ordinarie potreste trovare piccole gioie, purché vi lasciate trasportare dalla corrente e vi accontentiate, specialmente se non ci sono alternative significative. Sul fronte lavorativo, concentratevi su risultati concreti per muovervi con abilità e tempismo, evitando interventi superflui. In amore, per proteggere sentimenti ancora confusi, potreste optare per un passo indietro temporaneo ma strategico. Non dobbiamo dimenticare che lunedì mercurio inizia un transito attivo, il che rende questo il momento perfetto per fare qualcosa di più. Forse qualcuno di noi ha già in mente un nuovo percorso basato sulle novità degli ultimi mesi, o sta per lanciare un nuovo progetto, lasciando il passato alle spalle. Non tutti i nostri sforzi sono stati coronati dal successo, né tutti i nostri piani hanno ricevuto le critiche necessarie, ma ciò non significa che dobbiamo arrenderci. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono novità dopo una pausa, e Giove sta spingendo positivamente per risolvere eventuali questioni legali. Più ci avviciniamo alla seconda metà dell'anno, migliori saranno le prospettive. Segno Scorpione Questo fine settimana si prospetta molto favorevole per il segno dello scorpione. Nel campo sentimentale, sarete pieni di iniziative, con una creatività scintillante e uno spirito geniale che vi permetteranno di sorprendere il vostro partner. Grazie alla vostra generosità innata, sarete in grado di trovare soluzioni per ogni situazione che incontrerete, dissipando dubbi e incertezze. Un cielo positivo vi aiuterà a riflettere chiaramente, valutando attentamente ogni situazione, comprese eventuali modifiche nelle vostre amicizie. Nel lavoro, avrete la possibilità di anticipare i movimenti dei vostri concorrenti potenziali e godrete del sostegno incondizionato di un collega. Entro domenica dovremo concentrarci su progetti e sperare in nuove opportunità per mettere in pratica le nostre idee, posso anticipare che il mese di marzo sarà promettente da questo punto di vista. Ammiro la tua grande tolleranza, forse una delle nostre carenze è la mancanza di pazienza, ma se riusciamo ad essere più pazienti, vedremo i risultati. È importante essere sereni e lungimiranti. Presta attenzione nei rapporti con gemelli e sagittario. Segno sagittario. Le stelle promettono un'emozione straordinaria questa settimana, con la luna nel segno domenica. È il momento perfetto per incontri significativi e per esprimere sentimenti profondi. Le coppie consolidate potrebbero concentrarsi sulla casa o sui progetti familiari. Resta vigile, perché in questo periodo potrebbe presentarsi un evento inaspettato che cambierà il corso della tua vita, anche coinvolgendo figli adulti o favorendo le imprese familiari. Non sottovalutare nessuna opportunità o incontro, perché grazie a nuove esperienze e stimoli potresti ottenere grandi risultati. Nel campo amoroso vi troverete in un momento di grande comunicazione e efficienza con il vostro partner. La passione che state vivendo sembra essere inarrestabile e vi auguriamo di goderne appieno sia di giorno che di sera. Questo sabato di febbraio si prospetta tranquillo per molti sagittario, offrendo l'opportunità di dedicarsi ad attività che portano gioia ma che spesso vengono trascurate. Anche se agli occhi degli altri potrebbero sembrare attività banali, perseguitele con determinazione perché hanno un grande significato personale per voi. Sul fronte lavorativo, state portando avanti un progetto di grande importanza, dimostrando la vostra capacità di assumervi responsabilità considerevoli. Segno Capricorno Questo tratto di febbraio è cruciale, come ho recentemente discusso nel mio libro. È il momento di fare scelte decisive, di sorprendere gli altri e di rivelarti vincente. Se stai avviando un'impresa o una nuova attività, le stelle sono favorevoli, specialmente per i liberi professionisti che possono ottenere grandi successi. Non perdere l'occasione di farti notare se sei stato in secondo piano per un po'. L'unico rischio in questo periodo è l'affaticamento, quindi è importante trovare un equilibrio tra lavoro e riposo. Un periodo di normalità e creatività vi attende, accompagnato da una buona dose di concretezza, una caratteristica insolita per alcuni di voi. La giornata vi porterà risultati positivi e vi permetterà di fare le vostre scelte senza sentirvi vincolati dagli altri. In ambito lavorativo, stabilirete un rapporto di collaborazione proficuo con un collega, scoprendo molte affinità. Se il vostro partner sembra un po' in giù di morale, cercate di ravvivare l'atmosfera con una sorpresa romantica. Segno Acquario Cari amici dell'acquario, secondo le previsioni astrali di oggi, potreste trovarvi di fronte a piccole sfide amorose, ma nel corso del pomeriggio le vostre idee si chiariranno e saprete come affrontarle con determinazione. Sul fronte lavorativo, sembra che la primavera porterà con sé risposte positive e gratificanti. L'importante è mantenere un atteggiamento paziente e positivo mentre attendete che le cose si risolvano nel migliore dei modi. Questo sabato si prospetta un periodo un po' sotto tono. Potrebbe essere un momento in cui dovete affrontare alcune difficoltà recenti e cercare di riprendervi. Evitate di essere troppo esigenti con gli altri e concentratevi sulle questioni più urgenti anziché chiedere consigli a persone che potrebbero non essere in grado di aiutarvi. Forse in serata la situazione migliorerà e potrete anche trovare motivi per sorridere. Fino a quando Giove è in opposizione, è meglio non rischiare troppo. Se stai affrontando complicazioni sul lavoro, come la defezione di un collega o problemi di coordinazione, mantieni la calma e gestisci la situazione con saggezza. È importante mantenere l'equilibrio e evitare cambiamenti repentini che potrebbero essere difficili da gestire. Per quanto riguarda l'amore, presto arriveranno momenti divertenti, quindi mantieni alta la tua energia. Segno pesci. Questa settimana, la luna porta cambiamenti nel cielo e potresti sentire un calo di energia domenica. Se hai affrontato difficoltà all'inizio dell'anno, è tempo di affrontarle con determinazione. Le coppie più solide potrebbero concentrarsi sulla casa e sulla famiglia, mentre chi è single potrebbe avere la possibilità di fare nuove conoscenze. Sul fronte lavorativo, le tue intuizioni saranno preziose e potresti trovare ispirazione per nuovi progetti. Presto potrebbero arrivare opportunità di carriera che porteranno a nuove sfide e successi. Oggi è prevista una splendida luna in scorpione che vi favorirà. Sarà un periodo propizio per apportare cambiamenti razionali nella vostra vita e riceverete supporto da persone ottimistiche. Nella sfera sentimentale, potrete godervi una serata tranquilla con il vostro partner e potrebbe essere un giorno importante per rivoluzionare positivamente la vostra vita sentimentale. Nel lavoro, dei cambiamenti significativi sono all'orizzonte e dovrete adattarvi alle nuove situazioni facendo leva sulle vostre risorse migliori.